Coltivava marijuana all'interno di una cantina del centro cittadino di Andria, la polizia di stato nel giorno di Natale ha sequestrato ben 23 piante a seguito di un controllo effettuato nell'abitazione di un 49enne andriese. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che l'uomo non era in casa al momento dell'ispezione ed hanno perquisito l'abitazione alla presenza della sua compagna. La donna ha confermato che l'abitazione era in uso al 49enne a seguito di accertamenti e risultate strani ai fatti. All'interno di una cantina di pertinenza dell'abitazione cui si accedeva attraverso una botola installata all'interno del bagno, i poliziotti hanno scoperto una vera e propria serra artificiale perfettamente funzionante in cui venivano coltivate 23 piante di marijuana nell'altezza di circa 2 metri complete di infiorescenza. La cantina con pareti rivestite da pannelli di legno era dotata di due aspiratori d'aria, quattro lampade alogene da 600 watt ciascuna, due deumidificatori, un timer e un tubo estensibile per l'irrigazione collegato alla rete idrica. All'interno dell'abitazione celati nella camera da letto sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione ed una macchinetta per confezioni sotto vuoto. L'uomo è stato denunciato a piede libero in stato di reperibilità per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.